Ciao amici e ciao amiche di Inbipassion, qui è Carmen che vi parla e state ascoltando il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto affronteremo insieme tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma tutte con un unico comune denominatore, l'impatto che hanno avuto sullo sport. Questa è la puntata numero 3 della seconda serie di questo podcast ed oggi parliamo di un qualcosa che caratterizza gli Stati Uniti in negativo. Oggi parliamo di una piaga del paese che contribuisce a distruggere il sogno americano. Oggi parliamo di armi facili. Se avete bisogno di un'arma non c'è alcun problema. Per prima cosa bisogna compilare un modulo con i propri dati anagrafici. Successivamente si passa ad un'autocertificazione su eventuali precedenti penali, uso di psicofarmaci e stato psicologico dell'individuo. Giusto qualche giorno di attesa, il tempo che le autorità effettuino tutti i controlli preventivi tramite un database e poi ci siamo. Quindi la procedura standard per acquistare un'arma negli Stati Uniti è questa. Nulla di più, nulla di meno. Per chi ha meno di 21 anni negli Stati Uniti è più facile comprare una pistola che entrare in un locale. È più facile comprare una pistola che commettere un'infrazione stradale. È più facile comprare una pistola che ricevere un antibiotico in farmacia. Oppure, come disse il buon Damien Lee alludendo alla penuria del baby formula che imbarazza il paese, è più facile comprare una pistola che ottenere il latte in polvere. E non è di certo finita qui, perché la compravendita delle armi diventa ancora più semplice quando avviene tra privati oppure durante le fiere del settore, che si tengono in molti Stati americani e con una certa regolarità. Le leggi cambiano, questo è vero, ma il vuoto normativo rimane, proprio come un'impostazione culturale che ha radici sia storiche che politiche ed è sostenuta dai vari risvolti sociali del paese, soprattutto dagli interessi economici. La popolazione degli Stati Uniti rappresenta il 5% di quella mondiale, eppure possiede il 40% delle armi che nel mondo vengono messe in mano ai civili. Ma pensate che ciò non conti nulla? Che cosa ne consegue in realtà? Lasciate che vi faccia qualche esempio. 18 luglio 1984. San Isidro. James Hubbard uccide 21 persone in un McDonald's. 20 agosto 1986. Oklahoma. Patrick Sherrill uccide 14 persone nella sede postale per cui lavora. Alla fine della strage si toglie la vita. 16 ottobre 1991. Texas. George Ennard si schianta contro il Labiskillen. Uscitore dal suo pick-up uccide 23 persone. 20 luglio 2012. Aurora. Un 24enne con indosso una maschera di Bane, il flaggello, entra in cinema durante la proiezione del film The Dark Knight Rises e uccide 12 persone. 2 dicembre 2015. San Bernardino. Una coppia simpatizzante del regime islamico irrompe nell'Inland Regional Center e uccide 14 persone. 12 giugno 2016. Orlando. Omar Matin irrompe nel Gay Bar Pulse e uccide 49 persone. 2 ottobre 2017. Las Vegas. Stephen Paddock durante il Route 91 Harvest Music Festival uccide 50 persone. 3 agosto 2019. El Paso. Patrick Crucius entra in un supermercato e uccide 23 persone, mosso da odio razziale contro i latinos. 16 marzo 2021. Atlanta. Robert Long irrompe in tre stale massaggio e uccide 8 persone. Lo avrebbe fatto per rimuovere le proprie tentazioni sessuali che lo ossessionavano. 14 maggio 2022. Buffalo. Il suprematista Peyton Gendron entra in un supermercato e uccide 10 persone. Queste sono solo alcune delle più sanguinose sparatorie verificate negli Stati Uniti negli ultimi 40 anni. E la cosa triste è che non saranno le ultime. Quella delle armi facili è una storia che parte da molto lontano, in particolare dal secondo emendamento della Costituzione americana, che risale al 1791. The second amendment gives citizens the right to bear arms. Più chiaro di così, non si può. Si stima che i civili statunitensi possiedano circa 393 milioni di armi da fuoco e che il 42% delle famiglie del paese abbia almeno una pistola in casa. Inoltre, gli Stati Uniti possiedono il numero stimato più alto per quanto riguarda le armi procapite al mondo, con 120.5 pistole ogni 100 persone. James Madison, l'autore della Carta dei diritti degli Stati Uniti, considerava essenziale per i privati cittadini il diritto di detenere e portare armi. Le verità politiche dichiarate in quel modo solenne acquisiscono per gradi il carattere delle massime fondamentali del libero governo e man mano che si incorporano nel sentimento nazionale contrastano gli impulsi di interesse, aveva scritto nel 1788. Della stessa opinione era anche il giurista William Blackstone, secondo cui l'autodifesa è la legge primaria della natura e che la legge creata dall'uomo non può togliere. Appoggiando il suo collega, il giurista George Tucker scrisse che il diritto all'autodifesa è la prima legge della natura e che è stato lo studio dei governanti a cui infinare questo diritto entro i limiti più stretti possibili. L'opinione che il possesso di armi sia un diritto fondamentale è stata poi confermata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti tramite la sentenza District of Columbia vs. Heller del 2008. La Corte aveva dichiarato che al momento della fondazione della Repubblica statunitense il diritto di avere armi era diventato fondamentale per i sudditi inglesi e ha poi precisato che la Carta dei diritti inglese, che risale al 1689, aveva elencato il diritto del possesso delle armi come uno dei diritti fondamentali della popolazione. Prima della District of Columbia vs. Heller, in assenza di una chiara sentenza del Tribunale, c'è stato un dibattito riguardo la dubbia inclusione di un diritto individuale da parte del secondo emendamento. Nella sentenza la Corte ha concluso che effettivamente esiste tale diritto, ma non è illimitato. Sebbene la decisione non sia stata unanime, tutti i giudici hanno approvato la stipula di un diritto individuale, scontrandosi però riguardo alla portata di quest'ultimo. Dopo la sentenza c'è stata una maggiore attenzione riguardo all'eventuale applicazione del secondo emendamento negli Stati Uniti. Quando la Corte ha poi interpretato il quattordicesimo emendamento nella sentenza McDonald vs. City of Chicago del 2010, si è rifatta all'anno in cui l'emendamento è stato ratificato, e quindi il 1868. Secondo quanto dichiarato, la maggior parte degli Stati presentava nelle proprie Costituzioni delle disposizioni che proteggevano questo diritto. E la Corte ha concluso che è chiaro che gli estensori e i ratificatori del quattordicesimo emendamento contavano il diritto di detenere e portare armi tra quei diritti necessari al sistema di libertà ordinata. E con questa ulteriore sentenza la Corte ha stabilito che le disposizioni del secondo emendamento si applicano agli Stati a seguito del quattordicesimo. Ma in realtà la questione è molto più complicata di così, perché la politica delle armi negli Stati Uniti è definita dalla contrapposizione di due diverse ideologie riguardo al possesso delle armi da parte di privati cittadini. Da una parte c'è chi sostiene il controllo delle armi da fuoco e dall'altra chi invece sostiene il rafforzamento delle normative sul possesso delle stesse. I due principali gruppi di interesse su questo tema sono la Brandy Campaign e la National Rifle Association. Per fare un esempio, i due gruppi si sono scontrati soprattutto per quanto riguarda le leggi Stand Your Ground, che conferiscono agli individui il diritto di usare le armi per difendersi, senza alcun dovere di ritirarsi da una situazione pericolosa. I sostenitori della sinistra e dell'estrema sinistra hanno invece sostenuto che il possesso di armi sia necessario per proteggere le comunità emarginate, quale gli afroamericani o la classe operaia, dalla repressione statale. I sostenitori dell'estrema sinistra sostengono inoltre che le leggi sul controllo delle armi avvantaggino principalmente i bianchi, a danno della comunità nera. Un altro argomento politico associato al diritto di attenzione delle armi è che vietare o regolamentarne il possesso rende più probabile la tirania del governo. Un sondaggio condotto nel gennaio del 2013 ha infatti indicato che il 65% degli americani crede che lo scopo del secondo emendamento sia quello di garantire che le persone siano in grado di proteggersi dalla tirania. Un sondaggio condotto nell'ottobre dello stesso anno ha invece mostrato che il 60% dei cittadini americani che possiedono armi menziona la sicurezza personale come motivo di possesso e che soltanto il 5% di essi menziona il diritto del secondo emendamento tra le altre ragioni. La cultura delle armi e di conseguenza i suoi effetti sono stati per decenni al centro di importanti dibattiti pubblici. Lo storico Richard Hofstadter ha osservato che gli Stati Uniti sono l'unica nazione industriale in cui il possesso di pistole è legalmente prevalente tra un gran numero della sua popolazione. Nel 1995 il politologo Robert Spicer ha invece affermato che la cultura americana delle armi si basa sulla proliferazione delle armi da fuoco fin dai primi giorni della nazione. Sulla connessione tra il possesso personale delle armi e la storia rivoluzionaria del paese e anche sulla mitologia culturale riguardante le pistole nella vita moderna. In più, l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti del possesso delle armi lascia perplessi gli altri stati sviluppati nel mondo, molti di quali non capiscono l'insolita permissività delle leggi americane sulle armi e credono che il popolo americano dovrebbe spingere per ottenere misure di controllo più severe a fronte delle numerevoli spalatorie di massa, soprattutto nelle scuole. I massacri scolastici hanno acceso numerosi dibattiti riguardo alle politiche di controllo delle armi ed in particolare riguardo alla necessità di misure di prevenzione più stringenti nei confronti di atti violenti perpetrati attraverso le armi. Gli Stati Uniti contano il maggior numero di massacri avvenuti all'interno di edifici scolastici. Infatti pare che negli Stati Uniti negli ultimi 23 anni si siano verificati almeno 11 eventi di questo tipo. E il paese è l'unico tra quelli sviluppati in cui le spalatorie scolastiche si ripetono disperatamente. Ma lasciate che vi faccia qualche esempio anche qui. L'1 agosto del 1966 l'ex marine Charles Whitman sale sulla torre dell'Università del Texas uccidendo 16 persone e ferendone 30. Il 20 aprile del 1999 Eric Harris e Dylan Klebold, due studenti della Columbine High School di Denver uccidono 12 compagni ed un insegnante. Successivamente entrambi si tolgono la vita. Il 14 dicembre del 2012 Adam Lanza entra nella Sandy Hawk School e uccide ben 27 persone. Di queste 20 erano bambini. Il 14 febbraio del 2018 Nicholas Cruz entra nella Majority Stoneman Douglas High School la sua ex scuola e uccide 17 persone. Questa è stata una delle peggiori stragi scolastiche statunitensi più di quella di Columbine ma una delle più atroci in assoluto rimane la sparatoria di Wald nella Rob Elementary School. Il 24 maggio del 2022 Salvador Ramos fa eruzione nella sua ex scuola elementare e uccide a sangue freddo 12 alunni e due insegnanti per poi essere uccito a sua volta dalla polizia. Questa è stata la strage infantile più sanguinosa della storia statunitense dopo quella di Sandy Hawk. Poco prima di consumare la strage l'assassino aveva postato sui social delle immagini inquietanti di armi per poi dirigersi alla sua ex scuola barricarsi in un'aula e uccidere quante più persone possibile. Una tragedia che aveva mosso gli animi degli americani e che aveva innalzato un grande no nei confronti del possesso di armi a cui si era unito calore anche papà Francesco. Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possano più accadere aveva dichiarato in quell'occasione. Quelli sovracitati rappresentano soltanto una minima parte di tutti gli agghiaccianti massacri scolastici avvenuti negli Stati Uniti negli ultimi vent'anni. E l'elemento comune in tutti questi episodi che è quello più inquietante e attira di più l'attenzione è il luogo in cui avvengono e cioè le scuole. Sicuramente non sono gli unici luoghi in cui vengono consumate queste stragi ma è lampante come nella maggior parte dei casi siano proprio quegli edifici soprattutto chi c'è dentro ad essere presi di mira. La maggior parte degli assassini ha meno di 18 anni dei tentativi di suicidio alle spalle e secondo uno studio condotto dalla psicologa Robin Kowalski qualche turbamento emotivo o psicologico di vario tipo che sta affrontando. Che l'adolescenza sia un momento di sviluppo particolarmente complesso lo sappiamo tutti ma lo diventa ancora di più se si va incontro a fasi di disagio di vario tipo. Il tutto è amplificato dal fatto che nelle scuole statunitensi non ci sia un'adeguata assistenza psicologica a disposizione degli studenti e il fatto che chiunque possa comprare un'arma senza troppe difficoltà non aiuta. Anche il fatto che gli assassini siano quasi sempre di sesso maschile non è un caso e lo dimostrano vari studi. Sia per motivi sociologici che evoluzionistici gli uomini sono più portati a praticare violenza fisica e ricorrere all'utilizzo di armi. Gestire un'arma da fuoco soprattutto nel caso dei fucili richiede un tipo di forza e resistenza fisica che difficilmente appartengono ad una donna a meno che non sia stata appositamente addestrata. Non a caso dal 1979 le sparatorie di massa avvenute negli Stati Uniti che sono state compiute da donne sono state soltanto 17 e di queste ben 7 hanno avuto luogo in una scuola. Ma perché proprio la scuola? In realtà non è neanche così tanto difficile capire perché proprio la scuola. Perché le scuole rappresentano un luogo frequentato da persone indifese e di conseguenza un luogo in cui l'assassino può colpire un numero più alto di persone. Un luogo che rappresenta innocenza e crescita e che l'assassino si affretta a distruggere con forte valenza dimostrativa. E negli ultimi dieci anni l'America non ha fatto nulla per fermare una carneficina quasi quotidiana. È rimasta uno stagio della lobby delle armi e dell'opposizione dei repubblicani e si ritrova quindi a piangere altri innocenti mentre il mondo dello sport e dello spettacolo gridano la poca rabbia. Secondo quanto affermato dalla First Lady i nostri bambini meritano molto di meglio. Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri perché quando è troppo è troppo. Il congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco quanti bimbi devono ancora morire prima di poter agire dichiara Jill Biden. Un divieto che il presidente Joe Biden chiede senza successo da quando è entrato alla Casa Bianca andando a scontrarsi ovviamente con l'opposizione dei repubblicani del congresso che vedono nella difesa del secondo emendamento una delle loro maggiori battaglie. Sono disgustato e stanco dobbiamo agire e non ditemi che non possiamo avere un impatto su questa carnificina così dichiara Biden alla nazione da ormai un anno a questa parte. Ho trascorso la mia carriera come senatore e vicepresidente a lavorare con quanto più buonsenso possibile per approvare leggi sul possesso di armi. Non possiamo e non riusciremo a prevenire ogni tragedia ma sappiamo che le leggi funzionano e hanno un impatto positivo. Quando abbiamo approvato il divieto di armi d'assalto le sparatorie di massa sono diminuite quando la legge è scaduta si sono moltiplicate. L'idea che un ragazzo di 18 anni possa comprare armi senza problemi è semplicemente sbagliata. In nome di Dio a cosa serve un'arma se non per uccidere qualcuno? È rivoltante. E una delle proteste più pesanti arriva in particolar modo dal mondo del cinema e non da uno qualunque perché arriva da tutti in Tarantino. Certamente non abbiamo bisogno di armi automatiche più di quelle che già sono in circolazione dichiara il regista. Dovrebbero esserci leggi più restrittive. Ma qual è la cosa divertente in tutto ciò è che lui stesso in realtà possiede una pistola addetta sua per difesa personale e c'era da aspettarselo vista la violenza dei suoi film. Ma vabbè. In ogni caso anche il mondo dello sport non si tira indietro Steve Kerr l'allenatore dei Golden State Warriors ha infatti già parlato più volte di questa cosa. C'è un disegno di legge in grado di inasprire la compravendita delle armi già approvato dalla Camera ma è fermo da due anni ostaggio di 50 senatori il cui solo interesse è conservare il potere sostiene. Durante una conferenza stampa tenutasi invece in questa stagione il capo allenatore dei San Antonio Spurs Greg Popovich ha proprio tenuto un discorso riguardo questa tematica. Il coach ha iniziato il suo monologo chiedendo se qualcuno nella stanza fosse in possesso di un'arma da fuoco per poi continuare con parole piuttosto forti riguardo il controllo del possesso armi negli Stati Uniti. Mi stavo chiedendo perché abbiamo un governatore un vice governatore e un procuratore generale che hanno reso più facile il possesso armi da parte dei privati cittadini ha dichiarato e hanno risposto ai continui omicidi dei nostri figli. Popovich ha criticato diversi registratori repubblicani in particolare del Texas e del Tennessee ha espresso il suo sdegno per l'espulsione dei rappresentanti Justin Jones e Justin Pearson dalla Camera dei rappresentanti del Tennessee dopo che la settimana scorsa avevano tenuto vari discorsi a favore di un maggiore controllo delle armi. Cosa ci vorrebbe per far cambiare idea a queste persone si chiede il coach voglio dire abbiamo due giovani ragazzi neri in Tennessee che sono stati appena condannati da un gruppo di persone che ci scommetto nel profondo della loro anima vogliono tornare a Jim Crow e quello che hanno appena fatto è un buon inizio quelli legislatori hanno chiamato quei ragazzi insurrezionalisti è difficile da credere ma l'America non è più quella che pensavamo è cambiata quindi se quei ragazzi sono insurrezionalisti qual è il passo successivo il livello di violenza successivo agli insurrezionalisti qual è? Popovich ha poi preso un foglio di carta e ha letto una dichiarazione della senatrice repubblicana Marsha Blackburn rilasciata dopo che un uomo ha ucciso tre bambini e tre adulti in una scuola elementare di Nashville qualche mese fa il suo commento dopo la strage è stato il mio ufficio è in contatto con i funzionari federali statali e locali e siamo pronti ad assistere dichiara il coach ma in che modo? sono morti e qui il coach inizia ad alterarsi a che cosa intende assistere? pulire loro cervelli dal muro? pulire il sangue dal pavimento della scuola? a cosa intende assistere? e poi c'è il governatore lì mi dispiace continuare ma billy sto monitorando da vicino una tragica situazione vi prego di unirvi a noi nella preghiera cosa sta monitorando? sono morti i bambini sono tutti morti quando vado a prendere i miei nipoti a scuola durante il tragitto devo solo sperare che siano bene Popovich ha poi definito la resistenza nei confronti del controllo del possesso armi come un tentativo di ammantare tutto ciò nel mito del secondo emendamento e ha criticato i legislatori repubblicani che quest'anno hanno realizzato cartoline di Natale in posa con le armi l'avidità dell'avidità delle lobby delle armi dei produttori è evidente ha detto lo sappiamo tutti i soldi parlano ma la vigliaccheria è l'egoismo dei legislatori così spaventati dall'idea di perdere il loro lavoro il loro potere il loro stipendio vorrei unirli in una stanza uno per uno e dire loro cosa è più importante per te se potesse votare per una legge sulla sicurezza condivisa dalla maggior parte dell'opinione pubblica lo farebbe per salvare anche un solo bambino oppure il suo lavoro e il suo denaro sono così importanti per lei il coach ha poi parlato dell'epoca dei diritti civili della guerra del Vietnam e dell'omicidio di George Floyd come esempi di violenza raccapricciante mostrata con dettagli cruenti e che hanno influenzato l'opinione pubblica dobbiamo davvero mostrare tutto ciò sostiene così tutti vedranno che questi genitori non erano nemmeno in grado di capire se si trattava del loro figlio questo sveglierà il senatore Josh Harway in modo che non corra verso gli insurrecionalisti qualsiasi cosa fossero queste persone pensano che siamo stupidi ma potrebbero avere ragione perché la fanno franca con queste stronzate purtroppo ci sono ben pochi motivi per credere che la frequenza di queste tragedie diminuerà anzi al contrario ci sono sempre più ragioni convincenti per aspettarsi ancora più sparatorie negli Stati Uniti soprattutto nelle scuole potremmo dire che le ragioni principali sono tre e spiegano proprio perché gli Stati Uniti sono al giorno d'oggi l'epicentro di una vera e propria carneficina il primo motivo è sicuramente che al giorno d'oggi il numero di giovani emarginati disturbati e pieni di rabbia negli Stati Uniti cresce a dismisura il secondo motivo è invece l'aumento esponenziale del disagio psicologico tra gli adolescenti statunitensi aggravato ulteriormente dal fatto che come detto precedentemente gli Stati Uniti ci sia una carenza storica di supporto per la salute mentale in quella fascia di età Nel dicembre del 2021 il portavoce delle questioni di salute pubblica del governo federale Mirek Marti aveva dichiarato che la salute mentale del giovani sta affrontando effetti devastanti a causa di sfide generazionali quali per esempio la pandemia da Covid-19 il rapporto rilevava un aumento significativo dei disturbi di depressione e ansia tra i più giovani insieme a più visite al pronto soccorso per problemi legati alla salute mentale e non fisica L'assicurazione sanitaria che include l'assistenza psichiatrica è stata infatti privatizzata negli Stati Uniti ed è stata spesso legata all'occupazione pertanto la perdita del lavoro durante la pandemia ha fatto sì che molte famiglie non fossero più in grado di fornire ai propri figli gli interventi di assistenza psicologica preventiva di cui avrebbero bisogno e le statistiche indicano che il deterioramento della salute mentale dei ragazzi causati dalla pandemia ha coinciso con un aumento del 50% delle sparatorie nelle scuole tornando al discorso di prima la terza ragione è invece la facilità con cui negli Stati Uniti si ottengono armi che spesso non sono protette dai membri della famiglia che le hanno in uso secondo un sondaggio condotto da ricercatori della John Hopkins Blumerang School of Public Health più della metà dei proprietari di armi non a caso non le conserva in sicurezza infatti c'è da considerare che in 4 casi su 5 almeno un'altra persona era a conoscenza del piano dell'aggressore ma non lo ha denunciato per combattere questa omertà le scuole dovrebbero istituire dei canali riservati per consentire agli studenti di esporsi riguardo il comportamento dei compagni e promuovere un clima di fiducia e comunicazione aperta che incoraggia ovviamente gli studenti a parlare ma dovrebbero anche assicurarsi che i meccanismi di segnalazione siano chiari in modo che gli studenti sappiano anche a chi rivolgersi nel caso in cui assistano ad un comportamento anomalo in più per dissuadere gli studenti dalla violenza armata le scuole dovrebbero mettere a disposizione una formazione sulla gestione dei conflitti e dell'aggressività e questo probabilmente gli aiuterebbe ad acquisire capacità di rivoluzione dei problemi fornendo loro un'ampia gamma di strade che sono diverse da quelle della cieca violenza sancito dal secondo emendamento della Costituzione il diritto al possesso di armi negli Stati Uniti è difficilmente riformabile per la mancanza di un consenso politico sul tema i democratici sembrerebbero favorevoli a leggi più severe mentre i repubblicani e gli indipendenti sono divisi sull'argomento insomma nonostante una media di due stragi al giorno non sarà facile limitare l'uso di armi da fuoco tra i cimini l'ultimo tentativo risale al 94 quando il presidente Bill Clinton riuscì a far approvare un divieto della durata di 10 anni della vendita di armi semiautomatiche ai civili divieto che oggi l'amministrazione Biden vorrebbe riproporre non riuscendoci l'alternativa potrebbe essere aumentare l'età minima per l'acquisto di queste ultime il problema è che il congresso diviso potrebbe bloccare qualsiasi proposta anche per questo alcuni stati come lo stato del Washington o quello della California preferiscono fare da sé ma il Texas e la Georgia ad esempio vanno nella direzione completamente opposta per una stretta sulle armi la strada si fa in salita e se c'è un altro aspetto preoccupante è che l'acquisto di armi negli Stati Uniti registra una spaventosa impennata ogni volta che si verifica una strage o qualcosa che contribuisca ad aumentare le tensioni legate alla sicurezza occasioni in cui il popolo americano si è sentito in pericolo d'altronde come dice Roche in Point Break la pace si ottiene con una potenza di fuoco superiore siamo letteralmente affacciati sull'abisso di un male che le parole non potrebbero descrivere però secondo me qualche parola è il caso di dirla perché si è tanto parlato delle stragi americane e di come arginarle e tanto se ne parlerà ancora il buonsenso ci suggerisce sicuramente una legge per limitare la disponibilità delle armi da fuoco tra i civili ma sappiamo tutti che non succederà mai e non solo a causa dei voti al congresso per il secondo emendamento per le lobby non sta solo lì la questione il punto è che in America il diritto di portare armi è inchiodato al principio della libertà individuale poggia sulle idee dell'autopossesso e dell'autodeterminazione dalle quali deriva il diritto di proteggersi senza sottoporsi ad autorità questo diritto è impresso nella coscienza più in profondità rispetto alla dialettica politica il congresso potrà anche approvare una legge per limitare la circolazione delle armi ma la società americana non è disposta a mettere in discussione questo principio l'idea della libertà che sia dallo Stato dalle leggi o anche dagli altri con cui si giustifica il possesso delle armi è la stessa che invochiamo per ottenere la conquista e il progresso nell'ambito dei diritti individuali riguardo il proprio corpo le proprie inclinazioni o la propria libertà sessuale dunque vi chiedo si può davvero scardinare questo principio perché la tragedia americana delle armi sta esattamente a metà tra la liberazione dal controllo degli altri e la dittatura del Dio anche per oggi è tutto la puntata si conclude qui vi ricordo come sempre di andare a seguire su Instagram la pagina del podcast la pagina di MBA Passion e di leggere tutti i nostri articoli sul sito e noi ci vediamo alla prossima puntata e noi ci vediamo